Cari amiche e cari amici, in questo video voglio parlarvi della visione guerriera nella tradizione. Come ho ripetuto in moltissimi video, la tradizione è metastorica e metatemporale, ossia supera il concetto storico e di una collocazione specifica nella storia, o meglio non si può esaurire nella sua manifestazione in un determinato periodo storico ed è metatemporale perché supera le barriere del tempo. La tradizione si manifesta però camminando sulle gambe degli uomini, utilizzando la lingua degli uomini, quindi si manifesta nella storia in diverse modalità, in diversi periodi storici, in diverse situazioni e la tradizione può essere distinta, per chi sa riconoscerla, nelle sue diverse manifestazioni dunque, sia storiche e di conseguenza anche temporali. Non è un caso che ci sono delle incredibili analogie in tradizioni anche molto antiche che non avevano avuto contatti tra loro. In questo video mi occuperò in particolare della visione guerriera della esistenza, e quindi anche del concetto di guerra nella visione tradizionale. Dovere del mistico e ribelle è coltivare ogni giorno il suo spirito guerriero nella consapevolezza che ogni combattimento, attenzione, deve scaturire dal centro, ossia sul piano metafisico, si traduce in un secondo momento in azione sociale e politica. E questa è la vera politica nella prospettiva spirituale del mistico ribelle, non la politica politicante che si occupa semplicemente della transitorietà, è di lotte transitorie. Queste possono essere tranquillamente condotte, e il mistico ci si può dedicare anche con tutto se stesso, ma nella coscienza che queste sono espressioni temporali e transitorie. Dunque, ogni combattimento scaturisce dal centro, sul piano metafisico si traduce in azione sociale e politica in un secondo momento e può divenire anche lotta esclusivamente politica. Difficilmente può produrre un risultato duraturo e serio, e nel caso di un'eventuale riuscita, una lotta politica che sia totalmente slegato dall'aspetto metafisico. Perché? Perché le energie che si incanalano in questa direzione di una lotta esclusivamente politica si disperdano, perché si traducono in un raggio di azione veramente minimo. In questa prospettiva, la meditazione e l'ascesi che prendono corpo nella pratica quotidiana sono necessarie affinché possiamo tradurre veramente la nostra azione in un'azione politica derivante dalla conoscenza di noi stessi e quindi dalla tradizione. Quindi, meditazioni ascesi, nella pratica quotidiana, sono necessarie per possedere il dominio sulla mente. Perché l'uomo dominato e travolto dalle emozioni in realtà non è capace di fare neanche un solo passo significativo, né sul sentiero della lotta, che, come vedremo, è strettamente collegato a quello dell'autorealizzazione. Quindi, non fare alcun passo significativo sul sentiero della lotta significa anche non fare passi significativi sul sentiero della autorealizzazione. Scriveva San Bernardo, Parlo di un nuovo genere di cavalieri che i tempi passati non hanno mai conosciuto. Essi combattono senza tregua una duplice battaglia, sia contro la carne e il sangue, sia contro gli spiriti maligni del mondo invisibile. Cavalieri di Cristo combattono sicuri la guerra del loro Signore, non temendo in alcun modo né peccato per l'uccisione dei nemici, né pericolo se cadono in combattimento. La morte per Cristo, infatti, sia che venga subita, sia che venga data, non ha nulla di peccaminoso ed è degna di altissima gloria. Infatti, nel primo caso si guadagna la vittoria per il Cristo, nel secondo si guadagna il Cristo stesso. Continua San Bernardo. Egli accetta certamente di buon grado la morte del nemico come castigo, ma ancor più volentieri offre se stesso al combattente come conforto. Affermo dunque che il Cavaliere di Cristo con sicurezza dà la morte, ma con sicurezza ancor maggiore cade. Morendo, vince per se stesso. Dando la morte, vince per Cristo. Non è infatti senza ragione che porta la spada. È ministro di Dio per la punizione dei malvaggi e la lode dei giusti. Quando uccidete un malfattore, giustamente non viene considerato un omicida, ma oserei dire un malicida e vendicatore da parte di Cristo nei confronti di coloro che operano il male, difensore del popolo cristiano. Questo è San Bernardo, un santo a parlare così, riconosciuto santo dalla Chiesa Cattolica, ormai totalmente devirilizzata e femminilizzata. Ma questo è quello che scriveva San Bernardo, è questo che insegnava San Bernardo ai suoi lievi. Da queste sue affermazioni si evince proprio l'importanza dell'aspetto metafisico nello spirito guerriero. È questo che distingue l'atto guerriero della visione guerriera mistica, del mistico ribelle, dalla bassa macelleria del combattente, magari mercenario, che va lì a uccidere altri uomini solamente per fare soldi, nel caso del mercerario. I pensieri che generano sentimentalismo sono conseguenti alla mancanza di consapevolezza in senso metafisico. Quindi il mistico ribelle avrà sempre la consapevolezza del legame dei due piani, il piano materiale e il piano metafisico. E l'essere centrato che fa del combattente proprio un vero guerriero. Così, in guerra, nella lotta, lo stato d'animo può rimanere sereno. Il mistico rimane centrato e può agire in modo efficiente durante il combattimento proprio in quanto centrato in se stesso. E il momento di sferrare l'ultimo colpo al nemico, quindi il momento del colpo fatale, diviene proprio il momento della massima consapevolezza dell'assoluto. Una consapevolezza che non esiste altra realtà che l'essere. Gli antichi romani, sempre nella tradizione, il bravo generale era quello che sapeva suscitare l'entusiasmo nei guerrieri. Quindi, al di là dell'aspetto tecnico, la testugine, tutte queste cose che conosciamo, che si davano per scontate, con generale doveva conoscere alla perfezione, il bravo generale era quello che sapeva suscitare l'entusiasmo, che era il furor belli, entusia, da una parola greca, enteos, che è una parola a specchio, che significa entrare in Dio e Dio che entra in te. In quel momento, il legionario non aveva più paura della morte e entrava in una dimensione trascendente di combattimento. proprio perché, sferrando l'ultimo colpo a nemico, c'è il momento di massima consapevolezza. Non esiste altra realtà che l'essere. E anche nel caso della propria morte, si entra nell'essere. Ecco la morte trionfale. E per questo la via del guerriero è sempre stata a privilegio di pochissimi. soprattutto ai nostri giorni, quando la stragrande maggioranza dell'umanità riconosce solo la dimensione illusoria della materia, disconosce la sfera metafisica e oltretutto devirilizza gli uomini, cosa di non poco condo. Combattere senza essere centrati significa essere preda delle passioni, quindi dei turbamenti, degli sbandamenti emozionali dai quali scaturisce l'odio perché il vero guerriero combatte senza avere il sentimento dell'odio. È come un pugile, immaginate. È il pugile professionista, non è che odia l'altro pugile. Nel momento del combattimento però picchia e picchia sodo e vuole vincere. Alla fine dà la mano al contendente, indipendentemente da come sia finito il combattimento. questo è il vero spirito guerriero, non comprende l'odio. L'atrocità di Mussolini e la Petaccia a testa in giù, era anche un messaggio massonico dell'appeso quello lì, è qualcosa che esula dello spirito guerriero e che rientra proprio nella bassa macelleria, per capirci. Combattere decentrati significa combattere con il sentimento di odio e questo non è del mistico ribelle. Perché l'odio comporta frammentazione e la frammentazione è perdita di consapevolezza e quindi mancanza di lucidità e non si può più vivere il combattimento come conoscenza di se stessi e come una via verso l'autorealizzazione. Pensate a tutti quei filmacci americani e poi soprattutto negli anni 70-80 sono stati strapieni, i veterani delle guerre del Vietnam poi dell'Iraq che vengono rappresentati come persone impazzite scompensate ridotte spesso a barbonizzate che avevano avuto da queste guerre scompensi nella psiche nell'anima e la loro disperazione è proprio testimoniata da decenni di questa cinematografia hollywoodiana e quindi l'esatto opposto quel tipo di guerriero di Arjuna per esempio il valoroso arciere della Bhagavad Gita guidato da Krishna sul suo carro che ha le istruzioni proprio per entrare in una dimensione metafisica della guerra e vincere la sua parte umana. L'autentico guerriero è consapevole di cosa significa vero combattimento e quindi non è solo questione di strategia come dicevo prima l'essere il generale romano è chiaro che doveva padroneggiare le tecniche di guerra però doveva saper suscitare l'entusia il furor belli nell'esercito quello era il bravo generale e allora vero combattimento è la lotta contro le forze che spingono fuori dal centro perché il tutto va sempre riproposto dal punto di vista interiore come un cielo così in terra ma vedere solo l'aspetto esterno è del macellaio non è del guerriero è del mercenario non è della visione tradizionale anzi il vero guerriero proprio contro queste forze tendenze abitudini pulsioni inclinazioni legate alle passioni scomposte che indirizza le proprie energie e quindi contro tutte queste forze caotiche e lui le deve armonizzare per centrarsi e combattere con una visione tradizionale una visione guerriera giusta e attenzione perché qui subentra il discernimento perché queste forze che sto parlando fondamentalmente di metafisica non sto parlando di nemico concreto il nemico concreto come vedremo poi quando parlerò di giad ha un'importanza marginale ma sono le forze mistiche le forze metafisiche che vanno riconosciute attraverso una sapiente opera di discernimento sia all'interno che all'esterno e questo riconoscimento è talmente importante che per combattere queste forze e annientarle non bisogna essere identificate con le forze oscure quindi con l'odio per questo dicevo che il vero guerriero combatte ma non odia ho fatto l'esempio del pugile e quindi il discernimento consiste in quella capacità di saper distinguere e separare le forze luminose e luminose questa parola luminose vuol dire manifestazione degli dei e quindi il vero guerriero sa distinguere e separare le forze luminose luminose da quelle oscure e telluriche le forze infere nella guerra comune da bassa macelleria non esiste questo concetto non esiste luce oscurità non esistono forze luminose e forze infere esiste solamente una guerra di bassa macelleria vissuta sul piano materiale e anzi se si parla di metafisica della guerra e di via della realizzazione come poteva fare appunto san bernardo o i grandi maestri guerrieri nelle varie tradizioni tutto questo sembra appartenere al mondo della fantasia della superstizione invece per chi segue la via del guerriero deve sapere riconoscere distinguere separare la natura di queste forze che sono essenzialmente ripeto forze metafisiche e queste forze poi prendono forma e corpo anche in specifici eventi o in specifiche persone è la potenza metafisica tellurica e demoniaca che ha preso corpo ad esempio in vergoglio distruttore della chiesa per comprenderci comunque questa fu la visione guerriera che caratterizzò molti combattimenti nelle società tradizionali ad esempio René Guénon grande conoscitore della tradizione ci scrive che la pace si collega direttamente con la guerra e scrive queste parole che vado a leggervi se la pace in quanto ordine equilibrio armonia è il riflesso dell'unità nella molteplicità l'essenziale ragion d'essere della guerra è di porre termine a un disordine e ristabilire l'ordine in altre parole è l'unificazione di una molteplicità operata con i mezzi che appartengono al mondo della molteplicità stessa è a questo titolo e solo a questo titolo che la guerra può essere giudicata legittima intesa in questo modo e non limitata a un significato esclusivamente umano la guerra rappresenta dunque il processo cosmico di reintegrazione del manifestato nell'unità principale vedete la comunanza tra tradizione entusiasmo enteos entrare in Dio è Dio che entra in me quindi il processo di armonizzazione e di unità con il tutto e che non proprio per illustrare il significato profondo della guerra nella visione tradizionale poi procede a una forma di esegesi un commento di una frase pronunciata dal profeta Muhammad che è questa siamo tornati dallo sforzo minore allo sforzo maggiore jihad è conosciuto fondamentalmente come sforzo la traduzione è sforzo è anche indicato come sforzo comunitario non è necessariamente legato alla parola guerra è guerra in armi anche qualcosa che va a beneficio della comunità per esempio entrano delle mosche nella classe e la maestra propone una jihad ai bambini di cacciarle fuori in questo anche quindi come come azione che va a beneficio della collettività anche ecco una maestra che dice cacciamo tutti insieme facciamo questa jihad cacciamo tutti insieme le mosche dell'aula non è che sta parlando di 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 armi o ok quindi bisogna sempre contestualizzare pure e quindi sforzo significa jihad eh e comunemente viene utilizzato come sappiamo con con la traduzione di guerra santa ma anche qui c'era uno sforzo minore e uno sforzo maggiore eh nella tradizione dell'islam lo sforzo minore è la piccola guerra santa e che è il conflitto combattuto contro un nemico umano proprio la guerra in campo dove uccidi con la spada l'altro ti ammazza quello lì è la piccola guerra santa però e non è un caso che è considerata piccola guerra santa perché la grande guerra santa ossia lo sforzo maggiore il jihad maggiore è la lotta contro l'anima inferiore quindi la lotta contro le passioni la lotta contro tutto quello che ostacola la conoscenza di se stessi e questa è la grande guerra santa se vogliamo parlare di guerra santa e Genon sviluppa questa definizione e definisce guerra santa con queste parole è la lotta dell'uomo contro i nemici che egli ha in se stesso vale a dire contro tutti gli elementi che lui si oppongono all'ordine e all'unità e quindi vedete che ritorna la visione tradizionale di guerra e di combattimento e continua Genon per colui che ha conseguito in se stesso la realizzazione perfetta dell'unità essendosi esaurite tutte le opposizioni cessa di conseguenza anche lo stato di guerra e non vi è altro che l'ordine assoluto anche un altro grande tradizionalista Julius Evola uomo della tradizione parla della grande della piccola guerra santa anche fa delle riflessioni dopo aver studiato i concetti di Genon e quindi grande piccola guerra santa rappresentano una concezione tradizionale di una certa visione guerriera appunto della tradizione e quindi dell'azione intesa come via di realizzazione spirituale e Evola sottolinea proprio gli insegnamenti che riguardano l'azione guerriera e che si ritrovano come tutti gli elementi tradizionali in momenti storici diversi in località geografiche anche diversi ma tutte queste sono considerate di Evola alla luce della sacralità della visione guerriera e nel caso della dottrina islamica del Jihad e vengono esposti mediante ricorso a una nozione anch'essa di derivazione islamica Jihad come via di Dio e nella sua opera principale rivolta contro il mondo moderno Evola scrive nella tradizione islamica vengono distinte due guerre sante una è la grande guerra santa l'altra è la piccola guerra santa la grande guerra è di ordine interno spirituale l'altra è la guerra materiale quella che si combatte all'esterno contro un popolo nemico la piccola guerra santa continua Evola tuttavia la grande guerra santa sta alla piccola guerra santa come l'anima sta al corpo ed è fondamentale per la comprensione dell'ascesa eroica intendere la situazione nella quale le due cose divengono una sola la piccola guerra santa facendosi il mezzo attraverso il quale si attua la grande guerra santa e viceversa la piccola guerra santa cioè quella esteriore diviene un'azione rituale che esprime e testimonia la realtà della grande guerra santa che è il controllo delle passioni e la vittoria sulle passioni quindi ecco che il quadro evoliano relativo alla dottrina della jihad ci indica la giusta direzione spirituale nella visione guerriera l'accesso a l'entusia in teos tu entri in Dio e Dio entra in te quindi agli stati sovraindividuali dell'essere e quelli sono i simboli del cielo del paradiso e un'altra tradizione islamica i giardini della e via il valala e via dicendo quindi la guerra se non è costituita da questi aspetti metafisici perde il carattere sacro e si degrata a una vicenda di selvaggia sanguinaria di bassa macelleria irrazionale di persone che si odiano e dove al guerriero si sostituisce il macellario soldato alla visione eroica si istituisce proprio l'esaltato la bestia le parti più deleterie dell'essere umano qui Evola poi cita due massime una sicuramente islamica l'altra di non si sa bene da dove proviene una è questa il paradiso è all'ombra delle spade e un'altra è questa il sangue degli eroi è più gradito a Dio dell'inchiostro dei filosofi e delle preghiere dei devoti tornando alla tradizione della guerriera europea i templari quindi non la tradizione del monachesimo il monaco guerriero europeo i templari non erano semplicemente dei monaci o dei combattenti oratores bellatores e neanche erano monaci e combattenti insieme cioè oratores e bellatores insieme perché trascendevano persino questa dialettica erano sicuramente monaci particolari perché si sottoponevano a pratiche ascetiche estreme proprio al fine enteos di entrare in Dio e di trasformare il proprio stato interiore ma erano anche consapevoli che una simile conquista in quel preciso momento storico significava questo stato di coscienza in un'azione armata di difesa contro i nemici della fede in Cristo e allora ecco che i templari incarnano una molteplicità di ruoli re, sacerdoti guerrieri e monaci tutti insieme che apparentemente in determinati contesti potrebbero essere inconciliabili ma loro creano una sintesi su un piano metafisico e piano superiore di tutti questi anche simboli del re, sacerdote, guerriero e monaco ed è questo che crea il fascino che ancora oggi stupisce questo enorme coraggio in battaglia che aveva il guerriero l'ubbidienza assoluta nello scontro e lo scontro visto come prova di autodominio e di fede anche e si arrivava in quel momento guerriero attraverso un addestramento duro continuo quotidiano forme ascetiche digiuni preghiera veglie notturne e quindi questo ci lascia stupiti oggi ci lascia ammirati questa dedizione alla causa del Cristo e alla vita ascetica stupisce l'adesione alla regola ascetica e squisitamente militare e il concetto di malicidio inteso come uccisione di un'aggressione della cristianità di un aggressore della cristianità di un nemico di Cristo e allora diventa un atto sacramentale perfino perché è compiuto come strumento terreno della volontà divina quindi un sacrificio rituale che può essere compiuto solo dal sacerdote che fa questo sacrificio senza subirne il peso e le conseguenze che intervengono a turbare il cammino interiore e la vita psichica come abbiamo visto nella devastazione psicologica dei reduci dal Vietnam o dall'Iraq quindi i templari come specularmente la stessa identica cosa perché vedete la tradizione come si manifesta in periodi storici diversi Arjuna nella Bhagavad Gita la stessa cosa Arjuna l'arciere il grande guerriere il più grande guerriero che non voleva combattere a un certo punto e Krishna Dio gli dice no tu sei un guerriero devi combattere devi uccidere poi le anime le salverò io e questa visione apparteneva anche ai templari cioè il guerriero uccidendo il corpo nel nemico in realtà poi ne salvava l'anima e per riuscire a fare questo il templare doveva già però aver riconosciuto le potenze telluriche oscure dentro se stesso e averle sconfitte vediamo che coincide con il concetto di di grande guerra santa di giad intesa con grande guerra santa la lotta contro le passioni che è all'origine della visione guerriera quindi una volta che il cavaliere ha sconfitto le potenze sottili attraverso la centratura e la conoscenza di se stesso poteva occuparsi di uccidere il nemico e quindi il malicidio inteso appunto come un'eccisione di un'aggressione delle forze antagoniste ribelli proprio attraverso però questa centratura che scaturiva da una perfetta conoscenza di se stessi bene cari amici e cari amici per il momento è tutto pollice su per il mio lavoro sempre inchiodati al decimo toro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo che si è un'agricoltura che si è un'agricoltura Grazie.